Perché è tutto così in alto? Mancano 57 minuti al termine della sfida e 12 minuti alla consegna della prima portata. Esther, così va bene? Sì, è perfetta. Grazie, Vernon. Ok, puoi cominciare a preparare le salse. Va a prendere i limoni. Sì, li prendo subito, capo. Torniamo al bancone della sfidante. La sous-chef Ilgi si concentra sulla prima portata. Ha amalgamato la carne di vitello macinata con aglio, erba cipollina, tofu e zenzero, se non sbaglio. Ora sta facendo le alette di pollo con il preparato. Io sto preparando una salsa al kimchi. L'approccio della chef Choi al cibo coreano è autentico. Ha impostato il frullatore al 10%. La salsa mi serve per il primo piatto. Nel frullatore ha messo erba cipollina, kimchi e panna da cucina. Ha appena detto che è per il suo primo piatto. Un intingolo simile alla salsa kimchi. Molto invitante. Vero.